Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come promesso in questo video vi porto la storia delle mummie di Urbania, una storia oltre la morte. Urbania c'è una piccola chiesa che nasconde un grande segreto, 18 corpi mummificati, che narrano storie di vita, ovviamente di morte. Nel 1804 in Europa, quasi completamente dominata dall'impero di Napoleone, venne promulgato l'edito di St. Claude, il decreto che per motivi ingenico-sanitari e di ugualianza sociale stabiliva nuove regole per la sepoltura dei morti. Le tombe andavano trasferite a di fuori delle mura della città, in luoghi ventilati e soleggiati, e i defunti dovevano essere espeliti singolarmente e con labili tutti uguali. Quando due anni più tardi, l'edito venne steso all'Italia, anche la piccola città di Urbania, circa 60 km dal sud di Pesaro. Chiamata così in onore di Papa Urbano, a tutti i giorni dovete allinearsi alle indicazioni dell'imperatore. Iniziò così una lunga operazione di trasferimento di tutti i corpi innumati in fosse comuni, chiese e cappelle private, situate all'interno delle mura della città. All'epoca, occuparsi gratuitamente nel trasporto dei defunti era la confraternita della Buona Morte, un gruppo di devoti a San Giovanni De Collato che era stato fondato nel 1567, dal sacerdote Giulio Timotei. Oltre al trasporto dei corpi, la confraternita offriva diversi altri servizi, come l'assistenza ai malati e ai condannati, o la combinazione dei registi di morte. Uno dei cimiteri che andava trasferito era quello del Convento di San Francesco, che si trovava in un piccolo appellamento di terra, nei pressi del centro storico, vicino a quella che allora era la Cappella Cula. Un'ingredibile scoperta Un giorno, durante le sonzioni di alcuni corpi da una fossa comune del piccolo cimitero, i confraterni furono colpiti da un'ingredibile scoperta. All'interno della fossa c'erano diversi cadaveri, che apparivano in perfetto stato di conservazione. La pelle era praticamente inedatta, così come i tendini, i vagi sanguini, in alcuni casi gli organi interni preferivano i geni e perfini i genitali. Stando ai registi di morte, i corpi appartenevano a persone decedute, e a quel punto, dopo oltre dei cento anni, sarebbe dovuto essere ridotti a un mucchio di osso. Il rinnovamento attirò una particolare attenzione del perore della confraternita, Vingello Piccini, che di lavoro faceva il chimico ed era il farmacista della città. In quegli anni le conosceglie biologiche erano ancora molto limitate, e Piccini si convigli che qualcuno doveva aver prodotto un unguendo in grado di essiccare i corpi e impedire la decomposizione. Decise quindi di studiare a fondo le salme per provare a ricreare la fetamomatica pozione, che una volta aggiunto il momento sarebbe dovuta essere applicata su di lui e sui suoi familiari, secondo le sue precise indicazioni. L'interpretazione di priore sulle case della muccazione si rilevano sbagliate e il tentativo non andò a buon fine. Oggi nella chiesa dei morti ci troviamo ospiti di 18 corpi, di cui 15 sono ben conservati, mentre 3, quelli della famiglia, Piccini, sono poco più che scheletri. La muccazione dei 15 corpi era in realtà venuta in maniera del tutto naturale. Tuttavia, l'errore dei Piccini trova conforto nel fatto che le reali cause e fenomeni sono rimaste a lungo misteriose e tutt'oggi sono ancora oggetto di discussione. Per mortici però anni si è ritenuto che il responsabile della muccazione fosse un fuoco. Libima Bombicina ha perso una muffa in trovora che sarebbe stata in grado di disidratare rapidamente i corpi ed evitare una decomposizione. La teoria della muffa spesso associata anche ad altri casi di mummi naturali ed è stata però smendita da più recenti studi dei petalogi. Artur Afferroded dell'Università di Mene Sosta e Gino Fornaceri dell'Università di Pisa secondo i quali la casa delle modificazioni risiede a una particolare combinazione di fattori climatici e abbia dato il piacca elevato dovuto alla natura calcarea del terreno di sepoltura inieme all'effetto assorbente dell'invocolo di tela all'interno del quale i morti erano stati avvolti. All'epoca dei decessi le barre venivano usate soltanto per il trasporto avrebbero impedito la decomposizione a favorito la disidratazione dei corpi normale quando la modificazione è realizzata artificialmente il corpo viene trattato e svuotato in tutte le parti molli interne invece nelle case di Urbania questa incredibile composizione di elementi naturali è restituita dai corpi intatti nel corso degli anni diversi istituti hanno analizzato le mummie lo studio più consistente è quello che è realizzato da Natilan e Graoprac canale nel 2002 in occasione delle riprese del programma Temumi Rowan Shaw le indagini strumentali insieme ai controlli su registri di morte e alle osservazioni dirette sui corpi offrono una dettagliata descrizione di come quella di 18 persone siano vissute e di come siano morte alcuni corpi portano i segni di malattie come il ragazzo affetto da sindrome di Down o il canonico Mucinelli uomo di chiesa la cui copertura abbandonare dei visibili anche a 400 anni dalla morte a testimoni una morte violenta c'è un uomo ucciso per l'imbiccagione che è ancora oggi nella stessa postura contratta dal giorno della sua esecuzione e un altro che viene ucciso durante una festa nel cuore della vittima oggi conserva una parte si vede tuttora chiaramente fuori e sezione quadrata dello stiletto che lo uccise la vicenda più terribile però è senza dubbio quella dell'uomo se porto vivo con il vendere schiacciato la pelle d'oca e tutti i muscoli del corpo in dengione le mummie d'oggi tutte queste storie sono sopravvissute alla morte grazie alla modificazione e grazie all'interesse di Vincenzo Piccini che dopo la scoperta dei corpi facesse identificare una cripta dietro l'altare della cappella cura in alto al centro della cripta c'è una labbadaria fatta in testa di femori timbiei e teschi assemblati in dieme confini di ferrovia a quanto sembra di un medico militare auto austriaco detenuto nel convento vicino alla chiesa durante la prima guerra mondiale oggi musica aperta a pubblica sono 4-14 mila le persone che ogni anno grazie ai racconti di Giovanni Maestrini custodi guida della chiesa rivivono le storie e vedremo un video urbani questo era il video spero che vi sia piaciuto se così lasciatemi pollicioni giù iscrivetevi al canale attivate la campanellina se no youtube non mi invierà le notifiche di questi video qua e noi ci vediamo alla prossima in un prossimo video ciao a tutti